La salute è qualcosa di più dell'assenza di malattia. La salute è quando una persona riprende a gioire della propria vita, si sente appagata e rientra nell'ordine divino. In una rivista di astrologia e guarigione spirituale trovai una serie di articoli in cui erano raffigurati dei guaritori. Tra questi c'era anche una foto di Bruno Gröning. Ricordo ancora, come se fosse oggi, che guardavo tutti questi guaritori, ma l'immagine di Bruno Gröning ebbe un enorme impatto e un'enorme attrazione su di me. Ricordo perfettamente che mi colpirono i suoi occhi. In quel momento ebbi la sensazione che quegli occhi mi stessero guardando o che stessero guardando in fondo alla mia anima. Allora mi chiesi, chi è quest'uomo? Iniziai a leggere, ma accanto a questa piccola foto erano pubblicati solo i dati biografici, nato nel 1906, morto nel 1959. Pensai, peccato, non è più in vita. Pensai che se fosse stato ancora in vita avrei desiderato entrare in contatto con quell'uomo, avrei voluto conoscerlo. Poi accantonai del tutto l'idea, visto che non era più in vita e sotto l'immagine non c'era alcuna informazione o indirizzo che riguardassero il circolo degli amici o qualsiasi altro riferimento. Niente di niente. E così dimenticai tutto. Ma circa tre mesi più tardi dovetti recarmi, per motivi di lavoro, a Rosenheim. Lì incontrai una donna che viveva nella strada del Traberhof. Arrivai direttamente nel quartiere del Traberhof senza sospettare nulla. E poi incontrai quella donna e cominciamo a parlare. È stata una chiacchierata piacevole. Avevamo la sensazione di conoscerci già. Mentre discorrevamo venne fuori che lei faceva parte del circolo degli amici di Bruno Gröning. Nel suo appartamento rividi quella piccola foto, esattamente della stessa dimensione che avevo visto per la prima volta nella mia vita qualche mese prima. Mi venne spontaneo chiederle, chi è? Ho visto questa foto già qualche tempo fa. Conosco quest'uomo. Ho già visto la foto. E lei mi disse che si trattava di Bruno Gröning e mi raccontò di ciò che era accaduto al Traberhof. Fui molto stupita. Sentii subito che era lì che volevo andare. Era lì che volevo vedere se c'era una possibilità. Magari nella mia regione, nell'area di Francoforte. Ebbi subito il desiderio di stabilire un contatto. Circa sei mesi o nove mesi dopo ricevette l'introduzione. Alla fine dell'introduzione ci fu Lain Stellen con una meravigliosa musica. La signora Weiss disse ora aprite completamente il vostro cuore e abbandonate tutto ciò che avete portato con voi come pensieri pesanti. Accogliete semplicemente questa forza di guarigione e apritevi ad essa. Lo feci e sentii una bellissima corrente. Una corrente attraverso tutto il corpo e tutto fluiva in questa zona del cuore, qui, così. Sentivo davvero qualcosa che si espandeva qui, nel mio cuore. Lo percepivo come amore e avvolgeva tutto il mio essere. Non la si può descrivere a parole. Questa forte sensazione che provai mi diede immediatamente la certezza interiore che qui è all'opera una forza che non può essere descritta a parole, ma che è comunque molto potente. In seguito presi contatto con il gruppo medico scientifico. Mi interessava sapere cosa facevano. Sono una psicologa di professione e mi interessava. Ed è per questo che fui felice di frequentare relativamente presto le ore della comunità dei medici. Iniziai a leggere le testimonianze che mi venivano inviate con l'opuscolo, via verso la salvezza. Dopo poco tempo mi fu chiesto se volevo scrivere dei commenti, ovvero le valutazioni psicologiche sulle guarigioni dell'anima avvenute nel circolo degli amici, cioè guarigioni da ogni tipo di problema interiore. Questo include molti aspetti. Per esempio tutto il campo delle depressioni e dei disturbi d'ansia. Naturalmente anche la vasta area dei disturbi da dipendenza. Alcol, droghe, farmaci, nicotina e altri ancora. Persino i disturbi da stress post-traumatico. Tutti questi ambiti quindi. Potei constatare diverse guarigioni da disagi legati a questi ambiti ed ero molto interessata a conoscere in che modo esse avvenivano. Attraverso i commenti potei imparare molto su come avvenivano queste guarigioni sulla via spirituale. Mi viene in mente una meravigliosa testimonianza. Si tratta di un uomo di circa 55 anni che da 35 anni soffriva di una forma molto grave di alcolismo cronico. Dal suo diciottesimo anno di età beveva da 12 a 17 birre al giorno. occasionalmente nel corso della settimana beveva anche whisky. Ovviamente questa persona è anche andata incontro, diremmo, a un sacco di disgrazie nel corso della sua vita da alcolista. Mandò all'aria il suo matrimonio e divorziò. Perse così la famiglia e questo ovviamente gli procurò ulteriore amarezza. Questa amarezza in realtà era il suo atteggiamento predominante nei confronti della vita. Continuando a bere subentrò anche la depressione che lo portò a diversi tentativi di suicidio, falliti grazie a Dio. Un amico che conosceva la sua situazione lo mise in contatto con il Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Quest'uomo fu introdotto all'insegnamento di Bruno Gröning e poco dopo partecipò a un convegno del Circolo degli Amici. Durante questo convegno sperimentò la liberazione spontanea dalla dipendenza dall'alcol, cioè non aveva più pensieri legati alla dipendenza. In modo spontaneo era sparito il desiderio di bere. Tuttavia non era affatto consapevole perché tornato a casa ebbe grossi problemi di deglutizione per alcuni giorni, credo tre, che gli impedirono di mangiare qualsiasi cosa. Solo dopo che la situazione migliorò si rese conto che non aveva consumato alcolici da quel convegno e tuttora è rimasto così. Dal punto di vista delle discipline psicologiche questo fatto non si può spiegare in alcun modo, considerando la durata della malattia, 35 anni di forte dipendenza dall'alcol. Valutando la durata e la gravità della dipendenza dall'alcol non ci si sarebbe aspettata una tale guarigione che spontaneamente l'intera situazione si potesse trasformare in bene e questa persona si liberasse spontaneamente dal desiderio di alcol. E non solo questo. Gli tornò di nuovo la gioia di vivere. Ciò significa che l'intero stato mentale si era trasformato da un momento all'altro. Sentì di nuovo la voglia di vivere. Gli tornò il vigore, il coraggio. Si sentiva anche attratto dalla natura e da tutte le cose belle della vita e poteva vivere davvero la sua vita in pienezza. Queste sono guarigioni che mi commuovono sempre come psicologa perché dimostrano che non ci sono limiti a questo potere divino. Queste testimonianze di guarigione hanno anche influenzato profondamente la mia comprensione dei concetti di salute e malattia perché la salute è di più dell'assenza di malattia. La salute è quando una persona ritorna a gioire della propria vita, riesce a sentirsi appagata e rientra nell'ordine divino. Questa era anche la missione di Bruno Gröning che disse voglio ricondurre l'uomo sul sentiero divino, dal sentiero della sofferenza al sentiero divino. E questa esperienza del divino è molto, molto personale. Anzi vi dirò, questo significa che la fede e la mancanza di fede non sono modelli teorici di pensiero ai quali si può aderire. La vera fede deriva sempre da un rapporto molto personale con Dio che si manifesta in questi eventi speciali che le persone vivono se si aprono a questo potere e chiedono a Dio e a Bruno Gröning aiuto e guarigione. La cosa speciale qui nel circolo degli amici per me è il fatto che con il passare degli anni posso dire che avviene una crescita interiore e un aumento di consapevolezza e questo succede anche in me. Penso che questo valga per tutti gli amici. Lo sperimentano anche gli amici che hanno preso compiti qui nel circolo in qualsiasi ambito. Lo si vede in tutti gli amici che sono qui, che si tratta sempre di consapevolezza. Su questa via spirituale c'è un continuo procedere nella conoscenza delle leggi fondamentali della vita. Ed è proprio questo che mi tiene qui perché so che c'è questa forza superiore e questo ordine superiore di cui parlava Bruno Gröning e che qui nel circolo degli amici possiamo davvero sperimentare nel nostro intimo ciò che è già scritto nei testi di molte religioni ma che abbiamo solo sentito dire e che non siamo mai riusciti a sperimentare davvero dentro di noi. Ciò significa che qui diventa tangibile il divino che opera su di me, in me e nel mio ambiente. Molte testimonianze parlano di questo. Se posso scegliere un altro esempio, gli aiuti al prossimo, in cui un amico si sintonizza con la forza guaritrice all'insaputa di un'altra persona. Un bel esempio lo abbiamo quando accade che qualcuno si libera da anni di dipendenza, non importa di quale tipo. Questo dimostra che non si tratta di suggestione, ma di un potere realmente esistente che aiuta, riporta nell'ordine e guarisce. A mio parere direi che si completano a vicenda in modo meraviglioso. Non mi sembra che siano in contraddizione tra loro. La medicina allopatica e la guarigione sulla via spirituale dovrebbero in realtà integrarsi. E naturalmente vorrei che altri psicologi, colleghi professionisti, si unissero a noi nel circolo degli amici. Potersi convincere di questo processo di guarigione senza pregiudizi, sapere semplicemente che esiste anche un altro sapere, un'antica conoscenza, che qui ci viene nuovamente aperta, accanto alla tradizionale conoscenza medica o psicologica convenzionale che le università ci hanno insegnato. Se un amico viene al circolo degli amici con un problema e ritiene di aver bisogno di un farmaco da prendere per un po', non gli viene sconsigliato in nessun caso. Al contrario, gli viene consigliato di andare dal medico. È importante far sì che questo processo di guarigione sia confermato e documentato dal punto di vista medico. È importante prestare sempre attenzione a se stessi e alla propria guida interiore, in modo che l'essere umano sia riportato a se stesso. Grazie a tutti.